Il 19 febbraio del 2015 ci fu il crollo del solaio all'interno di un'aula del plesso di via dei sabini dell'istituto alberghiero Ipsear De Cecco di Pescara che serve una popolazione di circa 2000 persone, 1600 studenti, 280 docenti e 100 unità di personale tecnico amministrativo e ausiliario. I lavori sono costati all'incirca 600 mila euro ma il processo di crescita dell'istituto che tra i più grandi d'Abruzzo non è concluso qui. Si punta alla rapida conclusione dei lavori di realizzazione dei nuovi laboratori di un'aula magna e alla ristrutturazione della sede di via italica oltre alla costruzione del campus del gusto e dell'accoglienza. Ieri c'è stata l'inaugurazione ufficiale delle 18 aule che restituiscono serenità agli studenti e alle loro famiglie. Nel corso della cerimonia in un video realizzato dalla scuola si è ripercorso tutto quanto accaduto, il crollo, la chiusura dei tre livelli, le proteste di piazza degli studenti, gli interventi per ottenere i finanziamenti necessari per effettuare i lavori di recupero con una prima tranche di 145 mila euro erogati nell'agosto del 2015 da Regione Abruzzo e altri 450 mila sempre di fondi regionali erogati nel novembre del 2015. La riqualificazione del primo piano è stata eseguita dall'impresa Chiola, quella del secondo e del terzo piano, dalla Generali Costruzioni, il rifacimento della scala di sicurezza dalla Orsini e Blasioli. Pochi giorni fa c'è stato il rientro nelle 18 classi che hanno sopportato con grande maturità i mesi in cui la scuola è stata divisa in più plessi. L'inaugurazione ufficiale delle aure riqualificate da provincia e regione della sede centrale dell'istituto, ha detto la dirigente scolastica Alessandra Di Pietro, rappresenta il punto di approdo di un lungo percorso iniziato tre anni fa e caratterizzato da una grande capacità di ascolto e di dialogo tra le istituzioni.